Quando Nico Piras mi ha mostrato la pistola ha avuto paura di essere ucciso, di lì a poco e di fare la fine di mio padre. E quanto emerge dall'interrogatorio di Antonello Piras, il 21enne di Lula, che questa notte intorno alle 3 si è consegnato ai carabinieri, confessando di aver sparato allo zio Nico, 42 anni, nella notte tra domenica e lunedì, al centro del paese. Due fucidate fatali per la vittima, morta due giorni dopo all'ospedale San Francesco di Nuoro. Il giovane da quel momento si era reso irreperibile fino alle 3 di oggi, quando si è presentato in caserma. Ad ascoltare la sua confessione il PM della procura di Nuoro, Ireneo Satta, e il maresciallo Giovanni Ciancilla. Antonello Pira si è presentato in caserma accompagnato dai suoi due avvocati, Francesco Mossa e Giovanni Colli. Con lui c'erano anche la madre e la sorella. Il giovane era rientrato a Lula lo scorso fine settimana per le cortese aperte. Pira per tutta l'estate aveva lavorato come cameriere in Cosa Smeralda. La posizione del giovane fin dall'inizio è stata in bilico per aver fornito diverse piste agli inquirenti per la svolta nelle indagini. Nico Pira era imputtato insieme all'ex moglie Alice Flore dell'omicidio avvenuto nel 2015 del fratello, nonché padre di Antonello, in relazione al cui omicidio, proprio oggi a Cagliari si sarebbe dovuto ottenere il processo in corte d'assise. Antonello Pira, sinoltre, si era reso irreperibile subito dopo il tragico evento, quando i carabinieri avevano rivenuto vicino al luogo dove ha perso la vita il 42enne un ciclomotore, da lui utilizzato, pur non essendone il proprietario. Ma quello che ha indirizzato principalmente i carabinieri a reputare che il ventenne si fosse macchiato di questo gesto è stato il movente. In occasione della manifestazione di Cortesa Pertas, lo zio lo avrebbe provocato pesantemente. Per lui, questa mattina, si sono aperte le porte del cancere di Badu e Carros.